Ciao a tutti, sono Emanuele e Angelo Lilian e con questo video andiamo a parlare di un nuovo gioco di a tavola. Questa volta andremo a parlare di Terrors of London, i terrori di Londra, che è un gioco che come potete vedere ho in inglese perché esiste solo in inglese. Qual è la storia di questo gioco fondamentalmente? È un gioco competitivo, ogni giocatore avrà un suo mostrone a rappresentarlo, per esempio qui c'è Arbella, qui c'è Zazel, qui c'è Caino, qui c'è Stano, eccetera eccetera e ognuno di questi mostroni che ci rappresenterà, come potete vedere, ha la sua immagine, delle sue abilità particolari e dei punti vita di partenza diversi a seconda del tipo di personaggio. Per esempio lui ha 45 punti vita di partenza, Caronte ne ha 45 anche lui, però già Lilith ne ha 45 anche lei, già però per esempio questo Sobek ne ha 40, Arbella ne ha 40, eccetera eccetera. Immaginatevi un po' Magic the Gathering, dove invece di essere un mago anonimo, siete un mago che ha delle caratteristiche di partenza già sue, come se ogni mago di Magic, quando tu oltre a fare il mazzo, ok, ti scegli anche il tuo mago di partenza e ogni mago ha delle abilità particolari. Ogni mago ha anche un mazzo di partenza suo, per esempio questo è quello di Azazel, ok, questo è quello di Kain, dove ci sono di nuovo delle abilità particolari che fanno parte solo di quel, di quel, diciamo, mostro che vi rappresenta e il gioco si svolge a Londra, Londra è una città che è piena di mostri e questi mostri fondamentalmente lottano tra di loro per il territorio. Allora, questo gioco è un deck building, cosa vuol dire? Vuol dire che è un gioco in cui il vostro mazzo sarà costruito giocando, in questo caso. Come si svolge? Come vi ho detto, ognuno sceglie prima di partenza il suo personaggio che lo rappresenta, prende quindi tutte le abilità specifiche del suo personaggio, quelle che vi ho mostrato prima, e poi ci saranno sul tavolo diverse carte, ok? Come potete vedere, ognuna di queste carte che saranno sul tavolo ha il simbolo di una monetina in alto, un altro simbolo di fazione subito sotto, ha gli effetti che fa la carta e qua sotto delle abilità speciali che si attivano solo in certe situazioni che andremo a vedere poi insieme. Ogni mazzo di partenza ha anche, sempre per partire, i cosiddetti cultisti, che come vedete hanno come simbolino, nel loro testo in fondo, una moneta. Ogni giocatore pescherà 5 carte, se io ad esempio mi ritrovo in mano 4 cultisti, vorrà dire che ho 4 monete che potrò utilizzare per comprare 4 cose che sono sul tavolo. Ad esempio, questo costa 1, questo costa 1 ed è un oggetto, questo però già costa 3, ok? Questo 4. E ogni carta solitamente o fa danni, che ha il simbolino questo nero, oppure ci dà soldi, che è il simbolino quello della moneta dorata che vi ho fatto vedere prima. I tipi di carte che andremo a comprare sono principalmente due, ovvero i mostroni e gli artefatti. Gli artefatti solitamente li mettete in gioco e li potete utilizzare ogni turno, o finché non vengono distrutti o esauriscono i loro effetti. I mostroni invece li usate sul momento, è come se mandate sul momento la vostra orda, ipotizziamo che ho un'orda di questi qua in mano, li gioco tutti, fanno tutti i loro effetti, per esempio questo fa 3 danni, più altre cose, questo fa un danno, questo ne fa uno, più altre cose, questo uno, quindi in totale 3 più 1 più 1 più 1 sono 6 danni che vuole fare per esempio all'altro giocatore. Ci sono mostre che curano, mostre che fanno danni, e poi ripeto, ogni mostrone ha anche solitamente le sue abilità. Per esempio, questo, se lo giochi, ti dice, maledisci l'avversario la prima volta che giochi un mostro spirito. Che cosa vuol dire un mostro spirito? Come vi ho fatto vedere, in alto a sinistra, c'è il costo, subito sotto c'è la fazione, per esempio lui è della fazione degli umani, poi c'è lui che per esempio è della fazione dei non morti, lei è della fazione degli spiriti, lui è della fazione delle bestie, quindi per esempio, se io gioco lui che è umano, e poi vado a giocare lo spirito, lei che è della fazione degli spiriti, siccome l'umano ci dice, maledisci l'avversario la prima volta che tu giochi, una carta spirito, vuol dire che se io gioco prima questo, e poi gioco questo, oltre a fare i loro effetti, in più si attiverà l'abilità sua, per cui sarà maledetto l'avversario, che è una serie di abilità negative. Inoltre, se ci fate caso, come vi ho detto, ci sono anche in fondo in fondo, gli stessi simboli di fazione, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io, oltre a giocare per esempio, non lo so, prendiamo lui, gioco anche un mostro, che sia o della fazione umani, o della fazione non morti, si attiva, oltre a questa abilità qua, anche quella sotto, quindi vuol dire che se io per esempio, ho giocato questi due insieme, che questo qua è della fazione non morti, e questo qua è della fazione bestie, siccome questa è della fazione bestie, scomba, fa una combo diciamo con il non morto, e anche il non morto in questo caso, come vedete fa una combo con la bestia, vuol dire che oltre ai loro effetti, per esempio questa bestia, ti darà due monete, o attiverà un'abilità, e questo non morto, oltre ai loro effetti farà sacrificare, che vuol dire rimuovere una tua carta dal gioco, per snellire il tuo mazzo, e il gioco fondamentalmente si svolge così a turni, tutti partono con un mazzo di partenza, uguale, differente solo sulle abilità specifiche, del tuo mostro, del tuo personaggio, mago, mostro di partenza, e poi piano piano, durante i vari turni, ognuno compra le carte dal mercato, quello condiviso di tutti i giocatori, e se io compro una carta, quella carta va via, va nel mio mazzo, ne finisce un'altra, che probabilmente sarà diversa, rispetto a quella che c'era prima, e quindi posso anche comprare carte, per cercare di interrompere, la strategia dell'avversario, eccetera, eccetera, e quindi diciamo che, l'inizio del gioco, è, verte molto, sul cercare di costruirsi, un proprio mazzo, con le carte, che sono nel mercato di tutti, comprando quelle, più utili, per noi, poi pian piano, che si va avanti, si comincerà a sparare, un sacco di danni, a curarsi di un sacco, e a fare un sacco di soldi, diciamo, per comprare carte, sempre sempre più potenti, l'obiettivo, come vi ho detto, è azzerare, questi punti vita qua, dei mostri, che come vedete, se arrivate a zero, dead, come vi ho detto, ciascun mostro ha poi, le sue abilità specifiche, e nulla, questo è stato un gioco, che ho comprato, qualche mese fa, anzi, forse ormai è passato un anno, e, è un gioco, che ho giocato, con mio fratello, e è stato, bellissimo, per lui, bellissimo per me, è diventato una sorta di droga, c'è anche mio fratello, che solitamente, non gioca molto, ai giochi da tavola, quando ha provato questo gioco, gli è piaciuto tanto, ogni volta si finiva una partita, e lui diceva, facciamole un'altra, 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 vuoi per provare altri, personaggi base, vuoi per provare altre strategie, vuoi per il bello, di cercare di sconfighermi, e, e nulla, è un gioco molto divertente, poi è molto veloce, sia da preparare, sia da giocare, in una mezz'ora, fate una partita, e, poi potete subito farne un'altra, 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 a seconda di come scorre, il gioco, e di quanto vi può piacere, come potete aver visto, la grafica, è molto horror, è un gioco horror, immaginate, che questo sia, una sorta, per chi lo conosce, di star realm, o hero realm, che è un gioco molto simile a questo, solo che ha, anche, il discorso, che ogni, tra virgolette, personaggio base, cioè, il tuo avatar, che ti rappresenta, ha delle abilità specifiche, della vita specifica, delle carte specifiche, e, inoltre, le carte, hanno anche, degli effetti di combo, ulteriori tra loro, oltre agli effetti, del primo testo, ok, questa è la differenza, più grossa, con star realm, o hero realm, e nulla, che dirvi, a me questo gioco, è piaciuto molto, lo scelsi, sopra hero realm, e star realm, per quanto mi piacciono, molto anche questi, provati da amici, o anche su steam, perché ci sono, delle demo, di questi due giochi, su steam, mi piace, mi piaccue molto, la meccanica, e tra i vari giochi, di questo tipo, che cercai online, venne fuori questo, siccome sono abbastanza, appassionato di horror, ho preso, l'ho preso, uno, perché era horror, due, perché questa cosa, del fatto, che tu, non sei solo uno, che costruisce un mazzo, come tutti gli altri, anonime, ma hai anche un mazzo, di partenza specifico, e hai una vita specifica, insomma, c'è una sorta di, asimmetria, tra i vari personaggi, che aggiunge alla difficoltà, ecco, questa cosa, è stato il motivo, per cui l'ho scelto, sopra, Starrealm, e Herorealm, e è stato un ottimo acquisto, mi è piaciuto tantissimo a me, è piaciuto tantissimo a mio fratello, e ci piace tantissimo, giocarlo questo qua, non c'è ancora stancato, né altro, a proposito di acquistarlo, non è molto facile da trovare, e io vi dico anche, che se trovate, solo la scatola base, non so quanto convenga, perché con le due espansioni, c'è troppo più divertimento, il problema qual è, che come vedete, io qua, ok, ne ho tantissimi, di personaggi, di partenza da usare, dovrebbero essere, 12, o 8, o 12 sono, insomma, sono tantissimi, il punto qual è, che nella scatola base, ok, ne trovate solo 4, ok, che ora, non mi ricordo quali erano quelli specifici, però ne trovate solo 4, ok, con la prima espansione, ne aggiungete altri 4, e con l'ultima espansione, ne aggiungete altri 4, cioè, tra giocare con, 12 o mini, di partenza da scegliere, ognuno con il suo mazzo unico, e con le sue meccaniche, solo 4, è molto molto più bello, giocarlo con 12 mini di partenza, inoltre, nelle espansioni, ci sono anche, più carte di queste qua, di quelle base, diciamo, che vai a comprare nel mercato, e, è un gioco che si può giocare, 1 contro 1, o 2 contro 2, che anche questa è una cosa divertente, per quanto, per ora, non abbia ancora provato, a fare un 2 contro 2, e nulla, è un gioco, come vi ho detto, bellissimo, divertentissimo, se non vi sconvolge, la grafica molto horror, a volte ci sono delle immagini, un po' forti, può fare per voi, la meccanica è divertentissima, è un gioco che, si prepara velocemente, ed è un gioco che, si gioca, e una partita, come vi ho detto, vi dura mezz'ora, se proprio, proprio, se siete bravi, e durate, un 40 minuti, 45, cioè, è velocissimo da giocare, e, ogni partita è molto diversa, è molto diversa, anche per il fatto che, appunto, ci sono questi, o mini personaggi di partenza, avatar, che sono tutti diversi, ed è molto divertente, anche giocarle diversamente, e trovare quello più adatto, al tuo modo, di giocare, insomma, fine di tutto, approvato, uno dei giochi, più belli, che abbia mai comprato, ciao!